Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo Aspetti Dolore, aspetti, anzi che non sto macchia Anto, stati zitti e tranquilli, dai Anto, hai chiamato Don Lorenzo, dice che devi andare in chiesa subito Anto, che hai combinato stavolta? Non ho fatto niente, dai Io l'anno scorso hai lavorato la pizzeria dello zio stato a Londra, lo vedi? Sì Dolore, perché? Quindi, lo sai l'inglese? Più o meno Hi, I'm Bridget, it's nice to meet you Anto, hi, I'm Antonio Thank you so much for coming, I know it's really inconvenient C'ha detto? Boh Bless me father, for I have sinned, it's been... Wait, am I supposed to talk to him or to you? Mi sa di? Eh, niente, niente, che ora comincia, to me, to me Allora, ma non ho detto niente? Pensieri impuri No, ma non ho detto niente, che ora mi ha detto che non ci sono andate in alto, ma non lo so mi ha detto? Grazie a tutti.